Ha più di 50 anni e li dimostra tutti il Palace Allende, fin dal concepimento meglio assimilabile alla categoria dei palestroni. Per via di misure e conformazione, una struttura che si rivelò superata già all'atto della consegna e che però in tutti questi decenni ha svolto una funzione insostituibile a fronte delle more di una politica che non ha mai sfoderato il coraggio e l'intraprendenza necessari per lanciarsi nell'impresa certamente molto impegnativa di dotare la città di un palasport vero. Quello figura anche nella prospettiva dell'attuale amministrazione comunale che però nel frattempo ha dovuto mettere mano ad un'urgenza, quella di adeguare la capienza dell'impianto di San Lazzaro ai minimi fissati dalla Lega per la partecipazione al campionato di A2 di pallavolo che la Virtus ha riconquistato. Operazione pensata, finanziata, progettata e messa a terra in meno di quattro mesi e di cui è stata oggi salutata la conclusione per la comprensibile soddisfazione del principale utilizzatore. Una promessa mantenuta in tempi veramente incredibilmente rapidi. Questa giunta questa amministrazione ce l'aveva promesso e ha mantenuto le promesse. Abbiamo un palazzetto mille posti, era il nostro sogno. L'obiettivo della Virtus è naturalmente quello di mantenere la categoria e quindi avere la certezza di poter continuare in questa struttura chiaramente ci dà la possibilità anche di programmare il futuro. Non si è provveduto soltanto a portare a mille i posti a sedere ma anche giocando di sfonda con il centro sportivo che ha in gestione il palazzetto da 17 anni si è agito pure su altri aspetti. Con 250 mila euro siamo riusciti ad ampliare da 700 a 1000 posti il palallende realizzando due nuove uscite di sicurezza, le due nuove scale di accesso esterno molto più ampie di quelle che c'erano precedentemente, l'installazione di nuovi seggiolini, le tribunette, una riverniciatura completa del palazzetto, l'installazione di nuove porte per gli spogliatoi, c'è un nuovo bar, insomma un restyling importante che il palazzetto meritava e che da anni attendevamo, siamo riusciti a farlo un mese, un mese e mezzo non di più, quindi un grande risultato di tempismo e di lavoro di squadra di questa amministrazione. Dietro l'intervento ha anche la volontà di valorizzare realtà sportive come la Virtus che hanno saputo distinguersi. Lo sport è benessere, salute, giovani, risultati sportivi però è soprattutto capacità gestionale e impianti sportivi, alla capacità gestionale che deve essere una società ci deve essere un'amministrazione che è in grado di mettere in campo i migliori impianti sportivi. Ad oggi il palazzellende è il più grande impianto sportivo indoor che abbiamo, quindi andava diciamo stressato mettendoci quanti più posti possibili per mettere nelle condizioni la Virtus che è un modello di gestione di fare in serenità il campionato di A2. È chiaro che non è l'impianto che diciamo all'altezza della terza strada delle marche, su questo dovremo lavorare in futuro, però oggi abbiamo questo, ci abbiamo investito in pochissimo tempo per dare una risposta e anche un segnale a tutto lo sport fanese. Velocità ed esito di questa riqualificazione spingono ora a portarla ad esempio. Un modello di gestione anche dei lavori pubblici che vorremmo portare avanti dove si ha la certezza di un inizio, di una fine dei lavori, in questo caso i lavori in due mesi sono riusciti grazie anche a delle ditte che hanno lavorato in tempi veramente stringenti a realizzare quello che la Virtus e Fano si aspettava da dieci anni, quindi un restyling complessivo, aumento dei posti, nuovo restyling, quindi nuove tinteggiature, sistemazione anche di tutti i cartelli di sponsor, nuovi infissi e nuove uscite di sicurezza. Un investimento che Fano si aspettava e di cui sono felice di aver contribuito in pochissimo tempo.